Maria Fernanda Zervasi, quali sono i tre punti cardine della candidatura all'europea? Sicuramente per una questione grafica uno dei punti principali è quello che riguarda i giovani e il lavoro che poi comunque è un tema sicuramente legato anche a quello che è il mondo delle famiglie e alla possibilità, gli incentivi che devono essere dati alle famiglie e soprattutto alle giovani coppie che vogliono portare avanti una famiglia e chiaramente un altro punto cardine è quello delle infrastrutture legato anche alla questione del Ponte Sullo Stretto che non vuole essere soltanto uno slogan elettorale ma che vogliamo riportare come tematica in Europa per far sì che non sia una tematica soltanto dei cittadini messinesi ma anche di tutta la comunità europea. Chiaramente poi ci sono tematiche legate anche all'ambiente, al Made in Italy e al Made in Sicily in questo caso. Tornando sul Ponte Sullo Stretto c'è stato un esposto presentato alla Corte dei Conti ieri è un punto quindi nevralgico del vostro programma. Cosa può rappresentare per Messina? Può rappresentare sicuramente sviluppo insieme a quella che è tutta la rete che c'è attorno al Ponte Sullo Stretto e che si potrebbe creare soprattutto come volano ma anche per l'attività lavorativa dei giovani. D'accordo, grazie. Grazie.